Adesso io vi presento un amico mio, un amico tuo, un amico di lei, perché questo ragazzo è un giovane cantautore che è partito proprio da lì, di Amici. Lei è la nuova rivelazione svizzera del pop country e insieme, no insieme no, insieme La canzone si chiama Fino a tre, voglio vedere a tutti quanti tre, perché porta fortuna, come on! Vamos Padova, fino a tre, la canzone si chiama Turn Around, un forte applauso per Luca Napolitano e Zinca Pro! Ciao Padova! 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 No, non mi dire che sono l'opposto di quello che è meglio per te. No, non mi dire che è meglio per te. Non mi dire che sono l'opposto di quello che è meglio per te. No, non mi dire che sono l'opposto di quello che è meglio per te. No, non mi dire che sono l'opposto di quello che è meglio per te. Che bravi, mamma mia, bellissima questa canzone. Grazie. Ragazzi, incredibile. Allora, mi raccontate un po', perché so che sono usciti nuovi dischi, no? Sì, fino a tre il mio album e il suo album, Highway. Ok. Lei è Tinkerbell. Ok. E queste canzoni di che parlano? Di amore, di conti? Sì, di tutto, ma soprattutto di amore. Anche di corna, devo dire. Anche di corna? Te hanno mai messo le corna, te? Eh, spero di no. No, non lo sai. Siamo tutti in conti. Hai visto che dicono che sono l'ultima interessa in questa cosa, non so se sia vero. E il tuo, invece? Il tuo city? Sì, si chiama Highway. Highway? Esatto. Ma tu parli perfetto italiano. Molto meglio di me. Bravo, bravo. No, e è uscito adesso? E è anche uscita, sì, esatto. Ok. E noi facciamo di Bob con un po' di country, è un po' speciale. Country, bellissimo, mi incantò. E avete questo duetto che avete cantato stasera? Sì, in effetti album c'è fino a tre, poi abbiamo rifatto un mio brano, forse forse, in versione in inglese, Maybe, Maybe, e con lei abbiamo cantato un brano Highway in inglese. Adesso io voglio che voi vi fate un auguri a tutta questa meravigliosa piazza di Padova per l'estate a tutti i ragazzi. Vamos! Buona estate a tutti, fatevi sentire Padova! Bravo! Grazie! Ciao! Grazie! Grazie mille Luca Napolitano e Think Bell!